Vai, partita, arbitro, fischia, partono i rossi, attenzione, vai Marco! All'alto esce fuori dal quadrato, la palla si guarda dal fortiere rosso Mario. Ok, sentiamo anche Vincenzo che ha anche dei collegamenti da destro, giusto? Attenzione, attenzione, passa Guarino, passa Guarino, passa Guarino, passa Guarino, passa Guarino, viva, 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 bloccato, Guarino! C'è una manovra, una manovra, una manovra saldata dal quarto di Guarino! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Allora chiediamo un attimo gli altri di avvicinarsi per questo momento inclusivo e la partita riparte, grazie! Si riparte, si riparte con i giami che adesso devono ridurre lo svantaggio. Simone, Simone! Qui marciano la palla per Simone! Va lontano! Carica un mister! Ma che gli fai fare? Quattro, 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 quattro... Allora attenzione, si stanno avvicinando gli atleti orifici, quelli veri, quelli che giocano... Vai, vai, vai! Emilio ricomincia il pallone, si prende il pallone... La palla è per Valerio! Prova, ha spazio! Goal! Signori, signori, sta arrivando colui che può salvare ancora la squadra! Sì, vieni, vieni, vieni! Sì, vieni, vieni! Sì, vieni, vieni, vieni! Sì, vieni, vieni! Allora, esce lei a posto di qua! Aspetta! Facciamo un po' gialli, facciamo un po' giallo! No, no! No, no! Allora, aspetta, aspetta, aspetta! Aspetta! E anche in quella! Andro, aspetta! Andro, andro, andro! Clemente Russo! In caldo, in caldo! In caldo! In caldo! In caldo! Vieni qua, aspetta, aspetta! Tagli il rosso, tagli il rosso, tagli il rosso! Tagli il rosso qua! L'altra tre da giallo! Guarda, guarda! Aspetta, al posto di in attacco, in attacco! In attacco, in attacco! No, esce un attimo! Allora... No, aspetta, aspetta! Esce un attimo! Non ha puntato! Allora... I cari, entra! Veloce, veloce, veloce! Allora, entra in campo i rossi! Esce il nostro giocatore, prende il suo posto! No! 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 No!